Ciao a tutti, l'autunno è arrivato, io ho freddo oggi, va bene. Intro inutile per dire che oggi ci troviamo di fronte a un video book haul. Ho limitato molto il numero di libri acquistati ultimamente perché sono troppi, non so dove metterli, non ho più spazio, troppi libri da leggere e quindi ho detto, Matteo, limitati, stai transollo. Il problema è che, essendo passato molto tempo dall'ultimo video book haul, ho accumulato un'enorme quantità di libri che oggi vi mostrerò. Vi mostrerò a grandi linee, diciamo, perché poi recensioni più approfondite le farò quando i libri li avrò letti o quando avrò abbastanza libri per determinate rubriche, infatti è un mix, ci sono romanzi, ci sono libri illustrati e tanta roba. Alcuni mi sono stati regalati, altri li ho comprati io all'usato a prezzo intero, altri mi sono stati inviati gentilmente dalle case editrici e sono tutti libri super interessanti. A me piacciono i video book haul perché uno è bello farsi gli affari degli altri e due è anche bello avere degli stimoli di lettura attraverso il video acquisti di libri perché lì è lo spettatore che sviluppa la sua curiosità basata su una prima impressione, esattamente come un viaggio in una libreria virtuale. Questa cosa mi piace molto. Ma iniziamo subito. I primi due libri ve li mostro assieme perché vi spiego da dove nascono. Ho fatto questo mini evento a Imperia verso fine agosto? Era fine agosto? Boh. Vabbè, ho perso la cognizione del tempo e ho conosciuto due persone super simpatiche, anche i loro ospiti della fiera, dell'evento, un'Imperia sgrunt, e sono Junio e Vincenzo Bordoni in arte di Kleib. Junio è una mangaka italiana e Vincenzo Bordoni, di Kleib, è un noto youtuber che parla soprattutto di arte. E dato che è nata questa amicizia, mi hanno voluto gentilmente omaggiare dei loro libri, che sono questi due. Junio ha scritto Amalia, Made in Caffè, il bianco brucia perché, come al solito, sono super professionale, ed è un manga, appunto. Non sono un appassionato di manga, però devo dire che questo fumetto, questo volume unico, l'ho trovato estremamente carino e simpatico. La storia, diciamo, che è molto delicata, infatti se vi piace il genere può piacervi. Lo stile di disegno, pur essendo fedele al genere del fumetto giapponese, dimostra comunque una certa originalità, ed è proprio brava. Quindi, al di là del fatto che l'ho conosciuta, io le auguro a Junio, a Fidalma, un enorme in bocca al lupo. La storia, appunto, è un po'... Se dobbiamo fare un paragone letterario, può essere una sorta di urban fantasy, se vogliamo. Ci sono degli elementi di magia, infatti la protagonista è una sorta di dea. È una dea impacciata, goffa, che per realizzare il sogno di una ragazza sfortunata, che però poco prima di morire ha volto una preghiera a questa dea, lei decide di portare a termine, portare a conclusione questo sogno, lo sogno di questa povera ragazza, e anche con la sua impacciataggine, con la sua goffaggine, ecco. La storia è molto simpatica, molto carina, l'ho letta molto volentieri, e quindi ve lo consiglio. Il libro di Vic Leib invece si basa, come gran parte del suo canale, sul mondo dell'arte. Vengono trattati i più importanti artisti della storia dell'arte, tra cui Klimt, Magritte, Schiele, quanto amo Schiele, Frida Kahlo, Caravaggio, devo ancora leggerlo, però ovviamente da appassionato d'arte non vedo l'ora, e sicuramente, dato che lui ne sa pacchi, sarà una lettura estremamente interessante. E ora veniamo agli altri libri. Il primo libro che ho qui sulla pila, casualmente, è Il fondamentalista reluttante di Moshinamid. L'avevo comprato per la promozione del telomare in Audi. Come sapete, io ho adorato alla follia Exit West, e ho deciso di procurarmi anche questo romanzo dell'autore pakistano, che ha riscosso un discreto successo, anche per via di una fortunata trasposizione cinematografica. Sembra un libro veramente interessante, devo ancora leggerlo, è anche molto sottile, quindi quando avrò voglia di un libro breve, scattante, veloce, me lo leggerò volentieri. Anche Exit West era molto sottile, però, come mi ha insegnato quella lettura, Moshinamid fa di sintesi virtù, nel senso i suoi libri sono brevi, almeno questi due, e soprattutto tramite Exit West ho capito che, nonostante la brevità, lui è conciso, è letterario, è complesso, è estremamente affascinante. Quindi, da leggere, assolutamente. L'altro libro che avevo preso era quello Il Bambino Indaco, di cui vi ho parlato in una recensione apposita, l'altro che ho preso per Il Telomare Nauti. Altro libro che ho preso, l'ho preso a Libraccio, infatti è una vecchia edizione, Michel Houlebecq, autore francese di cui vi ho già parlato ampiamente sul canale, per quanto riguarda soprattutto i libri Piattaforma e Sottomissione, questo libro è il suo più famoso ed è Le Particelle Elementari, il suo must, praticamente, che non ho ancora letto. Tapino me. Ecco, magari adesso si vede, perfetto, perché avevo davanti una schermata bianca, perché qua le luci sono tutte casuali. Altro romanzo, questo l'ho comprato più di recente, voi sapete che quest'autore lo amo alla follia, è considerato un capolavoro degli ultimi anni ed è Il Regno di Emmanuel Carrère, edito ad Elfi, non vedo l'ora di leggerlo. È una sorta di rielaborazione sul cristianesimo, metà romanzo, metà saggio, ho cercato di saperne il meno possibile perché voglio godermelo. Tutti parlano di un libro grandioso e grandioso sarà perché Carrère è magnifico. Questo libro, invece, mi è stato gentilmente inviatomi dalla Franco Cesati Editori e ovviamente hanno pensato a me tutto per tutto perché già in copertina ci sono Simone de Beauvoir e Sartre e questo libro bellissimo anche dal punto di vista grafico si chiama, si intitola Amori letterari. Infatti è una sorta di saggio molto visivo, come vedete, sulle coppie famose di scrittori. È sicuramente interessante, è un libro da leggere tutto d'un fiato, è una delle mie prossime letture e non vedo l'ora soprattutto perché vabbè, la copertina urla Matteo Fumagalli da tutti i pori e quindi va bene. Poi ho avuto il periodo compriamoci delle graphic novel e allora ho deciso di accaparrarmi questi due libri della Eris Edizioni che sono di Jesse Jacobs, un illustratore pazzesco, molto surreale. Questa devo ancora leggerla in verità e si chiama E così conoscerai l'universo e gli dèi mentre questa l'ho già letta. È Safari Honeymoon. Safari Honeymoon parla di questa coppia che decide di fare un safari in un in uno in uno posto strano dove vivono creature pericolose, magiche, parassiti. È una storia anche bella sulla sulla civilizzazione, sulla natura umana, molto interessante. È tutto verde come vedete ma ve ne parlerò meglio e ve lo mostrerò meglio in HD nel prossimo Gioia per gli occhi naturalmente. Questo qua invece l'ho preso perché mi ispirava un sacco a livello di disegni ed è in realtà un'edizione inglese Dressing di Michael Deforge. Anche qua si tratta un po' di un illustratore abbastanza atipico, molto visionario. Il libro è soprattutto visivo perché le storie contenute sono dei brevi sketch surreali. Non c'è una vera storia coerente però è un libro anche solo da vedere bellissimo. Ve lo consiglio. Poi la casa editrice Ippocampo mi conosce altrettanto bene come sapete è una casa editrice che vi consiglio sempre e mi ha gentilmente omaggiato di Colorama un libro straordinario. È praticamente un corollario di pantoni con allegati allegato di solito a un soggetto che presenta quel tipo di colore pantone con anche delle minime descrizioni anche storiche di sul dove nasca un determinato colore soprattutto se si parla di un brand ad esempio Rosso Ferrari è scritta tutta una mini storia sulla Ferrari oppure curiosità è bellissimo ci sono tutti i colori di questo mondo è bellissimo anche a livello della copertina è proprio pura gioia libresca. Poi Iperborea mi ha inviato questo libro che ho sul comodino da mesi e sembra bellissimo aspetto il momento adatto per leggerlo quando sono nel mood nordico ed è Norwegian Blues di Levi Ericsson come al solito l'edizione è bellissima ed è un un romanzo cult contemporaneo norvegese che è una sorta di viaggio on the road devo ancora leggerlo però vi ripeto però mi ispira tantissimo perché viaggio on the road più tanta bella musica e quindi approvato questo l'ho comprato saggio sull'arte contemporanea estremamente interessante per il sottoscritto quindi spero anche per voi cioè non è detto se amate l'arte contemporanea per me può essere una bella lettura infatti anche questo devo leggerlo il prima possibile ed è lo squalo da 12 milioni di dollari in riferimento alla famosa opera di Damian Eerst di Donald Thompson è un saggio in cui ci si interroga sul valore delle opere d'arte quindi si penso credo io l'ho comprato anche per quello che si parli anche di economia in un certo senso come si valuta il valore di un'opera d'arte contemporanea perché come funziona il mondo economico del business attorno all'arte contemporanea lo trovo estremamente interessante e gli darò assolutamente una lettura approfondita poi la faz editore mi ha inviato questo libro anche questo sembra bellissimo anche perché l'autore molto amato io stesso avevo letto Stoner dovrei rileggerlo perché l'ho letto quando è uscito non l'avevo assaporato bene ma mi era piaciuto ed è Augustus di John Williams il ritorno diciamo il ritorno perché è un autore che è stato scoperto come sapete di recente e di cui saltano fuori nuovi libri ogni tanto Augustus è il suo ultimo lavoro e sembra una cosa completamente diversa da quello per cui è conosciuto e quindi sono abbastanza curioso in lettura più presto che mai ma no tutti più presto che mai e poi come faccio va bene poi Feltrinelli mi ha avviato questi tre libri sono tre novità questo è un libro che si intitola Lincoln Albardo di George Saunders è un libro che sta facendo molto discutere sulla figura di Lincoln è considerato un capolavoro da Zeddy Smith e sta diventando un best seller sta facendo molto discutere non l'ho ancora letto lo leggerò assolutamente invece sto leggendo ho in lettura da un po' Cronaca di lei di Alessandro Mari che io ho assistito anche alla presentazione del libro dove ho sentito l'autore parlare di questo libro e ci stava troppo sono arrivato più o meno qui sto andando molto lentamente perché in realtà pur essendo estremamente interessante non sono molto nel mode di leggere questo tipo di letteratura perché la scrittura è molto scarna minimale molto americana ricorda molto Cormac McCarty come stile e mi piace però ho detto ci vado cauto perché in questo periodo sono più non ho capito neanche bene in che periodo sono ma io vado a periodi fatto sta che Cronaca di lei è un romanzo che mi sorprende molto per la capacità di sintesi finora si parla di tantissimi argomenti ma nessuno è trattato in modo superficiale diciamo che ci sono più personaggi il personaggio principale diciamo che è questo scrittore a cui viene assegnato il compito di realizzare una biografia quindi fa il ghostwriter una biografia di un famoso pugile un altro personaggio chiave è questa ragazza questa ragazza senza nome che è l'altro punto focale del libro una ragazza senza nome che è talmente senza nome che il fatto che non abbia nome la rende la più visibile in un certo senso esattamente come ha detto l'autore nella presentazione una ragazza che fa la modella quindi anche una storia di corpi da un lato abbiamo la violenza il pugile la comunicazione tramite il corpo è un libro che parla principalmente di comunicare e comunicarsi mi mancano pochissime pagine quando lo finirò vi farò sapere maggiormente cosa ne penso e l'ultimo libro è Diavoli Custodi di Henry De Luca e Alessandro Mendini pur non amando Henry De Luca quando ho ricevuto questo libro sono rimasto estasiato perché ho detto che aspita può darsi che questa volta cambi opinione sull'autore perché Henry De Luca è un autore che piace o non piace è un ostere di scrittura molto peculiare anche abbastanza arcaico però questo volume in particolare l'ho trovato già sorprendente per quanto riguarda le illustrazioni che sono bellissime che già che mi sembra di aver capito fanno riferimento agli incubi di un ragazzo dislessico quindi interessantissimo guardate che belli i disegni strabelli e quindi curiosissimo di leggerlo in verità veramente anche questo top è una sorta di romanzo gioia per gli occhi ci sta e detto questo ho tantissimi libri tutti che vorrei iniziare subito e come farò chi lo sa io vi aspetto a un prossimo video fatemi sapere quale libro vi ha incuriosito di più quale di meno cosa leggereste avete letto qualcuno di questi libri fatemelo sapere potrebbe influenzare la mia scelta su quale iniziare per primo io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao